La società di cross nel parco di Monza, Iuri Foriani, splendido vincitore del cross corto per Tech & Field Channel. Iuri, un percorso estremamente insidioso, con una salita tagliagambe, ma tu hai corso con estrema disinvoltura davanti. Dacci un po' le tue sensazioni dopo questa gara, se sei andato veramente in palla. Io sono molto contento di questa gara, anche perché sinceramente non è la mia specialità, e correre in mezzo a tutti questi crossisti puri mi ha dato grandi sensazioni e voglia di vincere. Bene, dopo questa splendida gara, dove ti abbiamo visto veramente correre con disinvoltura, ti vogliamo chiedere quali sono i tuoi programmi futuri. Punterai eventualmente a correre una indoor e cambiare gli italiani? Sì, ora sto un'altra settimana a Trento, a casa mia, e poi vado giù a fare queste 3000 indoor a Genova, sperando di ribadire insomma il mio stato di forma. Quindi le indoor che poi dovrebbero rilanciarti verso una stagione in pista, speriamo per te fortunata per questi 3000 siepi, quest'anno è un anno olimpico, e quindi non è via da sognare, speriamo bene. No, io spero di continuare così, l'importante, come tu sai, è allenarsi, essere costanti, e poi i risultati vengono, l'importante è la salute, poi dopo siamo tutti forti. Bene, ti ringrazio, era Giulio Floriani, vincitore del cross-corto campionato di società di Monza, Maurizio Leone, Tech & Field Channel.